Sono a letto, una fredda insuperabile, pulcio un sitetto, fa sgruscio insopportabile, e non faccio mai, cosa succede che ho noto mani. Ho visitato di cento dottori, tutti i nostri chimici di rullori, ma non c'è cura, e io non ho mazirù chiù. Prima e dopo i basti naso posta, due cipo d'oiono e non c'è basto nulla, pissurare. Aiutami a capire il cos'è sta malattia, a ritugia a me casa, peggio d'una pàr magia, e'na che morria, che mi cottoria. Dopo una semana di sta vita, hai un culo, chino di puttosa, altro posto, pena inizioni non c'è. prima e dopo i basti naso posta, due cipo d'oiono e non c'è basto nulla, piccambari. aiutami a capire il cos'è sta malattia, a ritugia a me casa, peggio d'una pàr magia, e'na che morria, che mi cottoria. sta io morendo, non resisto, fino a domani, sta io soffrendo, non marrendo, ma faccio cani. aiutami a capire il cos'è sta malattia, a ritugia a me casa, peggio d'una pàr magia, e'na che morria, che mi cottoria. a capire il cos'è sta malattia, per aver veduto se. A ciao a tutti.